ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it quest'oggi vedremo come rimuovere gli oggetti da un video oggetti che per esempio non vogliamo e che vogliamo proprio cancellare come se non fossero mai esistiti lo faremo chiaramente utilizzando adobe after effect fino a un po di tempo fa fare questa cosa era complicatissimo perché bisognava duplicare porzioni di video cercando di andare a sovrascrivere l'oggetto che si voleva rimuovere i risultati si erano buoni ma l'operazione richiedeva diverso tempo quest'oggi grazie all'intelligenza artificiale al machine learning sensei è una tecnologia proprietaria di adobe la rimozione degli oggetti dai video è semplice quasi quanto premere un bottone ok in altre parole impareremo a fare questo in questo video c'è una barca che naviga beatamente al tramonto beato chi può ok e noi andremo a fare così andremo a cancellare in maniera tale che nel video la barca non ci sia più oppure ancora un video con degli uccelli che volano sempre al tramonto visto che cerchiamo di essere un po romanti ci mandiamo in play questo è il video e noi vogliamo magari cancellare qualche qualche volatile di troppo andando a fare qualcosa di simile a questo rimosso alcuni oggettini quello che andremo a fare in sostanza è utilizzare diverse tecnologie innanzitutto utilizzeremo le maschere perché grazie alle maschere noi possiamo andare a decidere vedete quale porzione di video andare a rimuovere in questo caso dei volatili si vado a spegnere definitivamente queste maschere vedrete che sotto ci sono eccole qua dei normalissimi uccelli che stanno solcando questo cielo al tramonto utilizzando ecco così non si vede ok si eccoli qua questi sono gli uccellini che stiamo a rimuovere vedete diceva utilizzando le maschere andiamo a stabilire quali oggetti andare a rimuovere ecco qui e poi lasciamo fare il lavoro sporco a sensei questa tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che va in qualche modo a vedete riempire questi vuoti e ricostruire l'immagine sottostante in altre parole andiamo a rimuovere gli oggetti iniziamo subito come dicevo prima la cosa da fare subito è creare delle maschere sugli oggetti che vogliamo andare a rimuovere per esempio noi vogliamo andare a rimuovere questo volatile ok quindi selezioniamo subito il livello che ospita il video andiamo a cliccare sul quadrato qui in alto a sinistra per creare una maschera intorno al nostro uccello ecco qua premendo due volte il tasto m sulla tastiera quindi se vi trovate in una situazione simile a questa ecco qua selezionate il livello e premete due volte il tasto m di milano accedete a quelle che sono le impostazioni della maschera impostiamo subito la maschera su sottrai perché chiaramente questo è un oggetto che deve essere sottratto dal nostro video e vedete che ecco è un po quello che vogliamo no vogliamo che l'oggetto venga mascherato e tolto dal nostro video a questo punto dobbiamo animare la maschera perché perché chiaramente se vado avanti vedete che il nostro uccellino qui va avanti e noi dobbiamo fare in modo che questa maschera segua l'uccellino quindi qui sulla sulle impostazioni della del livello cliccate sul cronometro accanto alla proprietà tracciato maschera clicchiamo e in questo modo potremo andare a lavorare con i keyframe e quindi animare il tracciato della maschera andiamo un pochettino avanti assicuriamoci di essere nella modalità selezione facciamo doppio clic sul bordo della maschera per selezionarla tutta e trasciniamo la sopra all'oggetto verificate ed è questa la cosa più importante che l'interpolazione tra un keyframe e l'altro segua l'oggetto vedete in questo caso l'oggetto viene completamente mascherato è importante che l'oggetto che state rimuovendo venga sempre mascherato in ogni fotogramma andiamo ancora avanti doppio clic e via ancora un po avanti il nostro uccello dovrebbe essere uscito verifichiamo adesso che ogni fotogramma mascheri correttamente l'oggetto che stiamo rimuovendo perfetto direi facciamo la stessa operazione con un altro con un altro volatile ok quindi riselezioniamo sempre l'oggetto non la maschera riselezioniamo l'oggetto clicchiamo ancora sul lo suo strumento rettangolo e scegliamo qualcos'altro da rimuovere per esempio questo qui che più vicino al bordo anche qui tracci tracciamo una maschera vedete che viene subito creata una seconda maschera se volete cambiare il colore che magari può confondere basta cliccare sul colore qui nella proprietà e scegliere un colore magari più acceso in maniera tale che sia riconoscibile subito mentre lavorate non ha alcun effetto questa operazione sul rendering finale anche qui mm sulla tastiera e anche qui posizioniamoci al primo fotogramma e clicchiamo sul stopwatch sul cronometro per abilitare i keyframe anche qui facciamo in modo che la nostra maschera segua l'oggetto che stiamo rimuovendo ok l'oggetto è uscito di scena selezioniamo la maschera doppio clic sul bordo ed ecco qua impostiamo la maschera non su aggiungi ma su sottrai e verifichiamo adesso che ad ogni fotografa ecco vedete per esempio in questo fotogramma qui abbiamo un ala questo non deve accadere quindi in questo fotogramma assicuriamoci che la maschera sia posizionata correttamente ok quando c'è lo stopwatch cronometro abilitato ogni modifica aggiunge automaticamente un keyframe quindi non dobbiamo preoccuparci ok io direi che ci siamo fantastico aggiungiamo una terza una terza maschera per mascherare qualcos'altro per esempio questo uccellino qui in basso ancora selezioniamo il nostro livello strumento rettangolo tracciamo un bel rettangolo intorno a questo volatile abbiamo una nuova proprietà una nuova maschera abilitiamo i keyframe e anche qui andiamo un pochettino avanti e mascheriamo correttamente l'oggetto che vogliamo rimuovere ok ecco qui c'è la possibilità di utilizzare il tracking automatico per le maschere sì ma non ne parliamo in questa lezione magari sarà oggetto di un tutorial futuro ok verifichiamo sempre che l'oggetto cada sempre all'interno della maschera impostiamo intanto la maschera su sottrai e verifichiamo adesso ok che l'oggetto sia sempre mascherato ok perfetto io direi di lavorare su un ultimo un ultimo volatile questo per esempio quindi creiamo una quarta maschera facciamo un po di spazio selezionare il livello strumento rettangolo mascheriamo questo volatile cambiamo il colore magari per renderlo un po più acceso è solo per me questo per per lavorare meglio ecco qua con con la maschera quindi posiziona la maschera al centro abilito anche qua il cronometrino già che ci siamo impostiamo subito la maschera su sottrai ecco qui andiamo un po avanti ecco qui vediamo che l'uccello sale un pochettino ecco qua verifichiamo che la maschera segua correttamente ancora in alto verso destra verifichiamo che la maschera segua correttamente ecco vedete che qui no ok viene tutto nascosto correttamente andiamo ancora avanti di qualche fotogramma e assicuriamoci che la maschera segua l'oggetto che vogliamo rimuovere ancora un po avanti e tra poco applicheremo sensei quindi l'intelligenza artificiale di adobe che andrà a ricostruire questi buchi con l'immagine che dovrebbe essere nello sfondo in questo caso in questo questo splendido cielo al tramonto ok vediamo che l'uccello qui sia sempre mascherato ole andiamo alla fine verifichiamo sempre che la maschera si segua l'oggetto che noi vogliamo andare a rimuovere direi di sì perfetto a questo punto noi abbiamo sostanzialmente quattro oggetti che vogliamo andare a rimuovere e li abbiamo mascherati come potete vedere no il passaggio successivo consiste nel far ricostruire questi buchi sostanzialmente queste porzioni mancanti di video all'intento all'intelligenza artificiale di adobe sensei come si fa selezioniamo intanto il livello che dobbiamo prendere come riferimento ok per ricostruire il background poi tra gli strumenti di adobe after effect dovete cercare nel menu finestra eccolo qui la voce riempimento in base al contenuto ci sono un po di impostazioni diciamo che per esempio abbiamo la possibilità di espandere la maschera quindi l'espansione del canale alfa intorno all'oggetto normalmente lasciate questo parametro così come diciamo ve lo consiglia adobe non in genere non è necessario di modificarlo il metodo di riempimento oggetto superficie fusione bordi per adesso noi per questo tutorial lasciamo come come modalità oggetto correzione della luce questa è utile nel caso in cui nel video ci siano dei cambiamenti nell'illuminazione in questo caso l'oggetto si muove in un cielo al tramonto quindi ci sono pixel più chiari pixel più scuri può essere utile abilitare la correzione della luce e lasciate su moderata questa funzionalità l'intervallo è l'area di lavoro vale a dire questa porzione qui indicata appunto dall'area di lavoro e quello che dobbiamo fare adesso è solo avere un po di pazienza cliccare su genera livello di riempimento clicchiamo vedete che adobe comincia a lavorare in background vengono analizzati tutti i fotogrammi del nostro video e tra qualche minuto verrà creato questo livello che già potete vedere qui nella timeline che sostanzialmente andrà a riempire i vuoti lasciati dagli oggetti che noi vogliamo andare a rimuovere mi fermo un secondo tra qualche minuto tornerà da voi con il risultato finale e vedremo com'è andata eccoci dopo qualche minuto non troppo a dire la verità perché il video era breve solo due secondi after effect ha generato il livello di riempimento eccolo qui che sostanzialmente va a riempire quei vuoti lasciati dagli oggetti che noi avevamo indicato come da rimuovere ora ho premuto la barra spaziatrice per indicare istruire after effect di fare un rendering di questa composizione quando sarà finito il rendering ecco qua potremo vedere il video alla sua velocità originale come potete vedere gli oggetti che avevamo indicato come da rimuovere sono effettivamente stati rimossi al loro posto after effect ha renderizzato uno lo sfondo che secondo lui era utile per riempire i vuoti lasciati è uno strumento che funziona sempre beh quasi sempre ovviamente immagini particolarmente complesse richiedono un po più di pazienza sia con le maschere sia con questi con questi parametri e a male estremi occorre utilizzare le vecchie tecniche di cloning che si utilizzavano fino a poco tempo fa se vi è piaciuto questo tutorial mettete un like condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al mio canale youtube venite a cercarmi sia sul mio sito internet www.fabioambrosi.it sia sulla pagina facebook e instagram fabio ambrosi grazie mille al prossimo video tutorial www.fabioambrosi.it